E la fa per io, sono Artifex e benvenuti in questo nuovo video, il quinto episodio insieme a Dami della nostra Superbargo Ciao a tutti Cosa? Che merda, no rifai rifai perché mi è venuto copiato, no rifai No 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 no, rifai E la fa per io, sono Artifex e benvenuti in questo nuovo video, il quinto episodio nella serie con Dami Ciao a tutti Ok, non dovrebbe laggare dal quinto episodio anche perché tipo ho cancellato una marea di cose dentro il computer E comunque ho ordinato un nuovo harddisk Ok E abbiamo come vedete abbiamo finito la casa, off al video perché sennò veniva un casino perché ci abbiamo messo tipo più di mezz'ora Molto più di mezz'ora, che cosa dici? Eh appunto, abbiamo disboscato tutta una foresta nì E abbiamo fatto questo e sono andato in cerca della neve per trovare questi tronchi perché non ce l'abbiamo più E bei casini sono successi Sì infatti, la casa tipo è abbastanza grande e la camera non l'abbiamo volute fare tipo subito per aspettare poi Qui è quasi cresciuto tutto, penso un po' in tutto il tempo che siamo stati a costruire Comunque sei sicuro che su fraps è stata una buona idea di mettere 120 fps O se vuoi aumentati No perché gli fps tipo sono, vanno dai 60 tipo ai 10, fanno come vogliono E vabbè allora lascia così, che se ne frega Allora Ogni tanto tipo scendo troppo, tipo dai 50 fps ai 25 Vabbè ma l'importante è che non freeze Max fps, performance max fps è messo, perché? Allora, io incomincio a rompere tutto qui perché la pentagione se ne devi andare Ok, io incomincio a fare invece le stanze dentro la casa Ok, vieni via tutto Abbiamo un sacco di cibo Facciamo, la stanza degli incantesimi Che già mi sembra che l'amo predisposta Ed era, vediamo Che palle La stanza degli incantesimi Ah sì, no, no, non te l'avevo detto come la volevo fare io la stanza degli incantesimi L'avevo sognato E appunto, non me l'hai detto Perché la notte io non dormo, io sogno Ah, ok Io penso Allora, queste Queste workbench Le metto Dove le metto, dove le metto Dove le metto, dove le metto Le metto qua Ma sì, un po' allarrando È una sotto la finestra Benissimo Ehm, nottecattiva del cronometro Sì Allora Dovevo fare le slab Per fare tipo una cosa super eccellente Ovviamente noi Da stupidi Ma proprio stupidi stupidi Abbiamo fatto tutta la casa Utilizzando legno normale Quando potremmo utilizzare le slab Infatti, cioè Ci è venuto dopo in mente Quando avevamo già finito tutto Ovviamente Sto facendo una cosa Tipo Troppo Troppo carina Abbiamo un sacco di cibo Dobbiamo fare il trasferimento Della cesta dentro Cosa? Dobbiamo fare il trasferimento Della cesta dentro Sì E' un gioco Non so anche dove metterle Dove le mettiamo? Tipo qui dove sono io ora No Che cosa sto pensando Ci sono io qua L'architetto Se ne va a frustieri Cosa? Non significa niente Io ho lasciati fare A mezzerotta Ti do un colpo O si rompe Mi hai fatto sbagliare No, non si è rotta Che merda Rompo le torce Rompi timidei Mi fa sito che si mette Zerotta lì Ok Qui andrà Il ripiano Delle Del cosa Delle Unchantment table Oh Frizzato Una bella frizzata La prima frizzata Di minecraft Sicuramente Dalli prossimi episodi Perché adesso Tipo registriamo Un po' diretto Tipo verso Per un paio di episodi Non so quanti Ma registriamo Un paio di episodi E quindi poi Direttamente Dalle tipo Mi sa Ottavo episodio Così Vedrete l'harddisc nuovo Quindi video Video che non laggeranno Si spero Oh che palle Ste torce Allora Qua metto Le slab E al centro ci sarà Il tavolo Ovviamente no Non è proprio al centro Non si come No quindi poi Tipo facciamo una disposizione Che faccio ora Tipo abbastanza Faiga Tipo con Le fence Qui E mettiamo poi le librerie Ok Come hai fatto nel server Nostro Oppure Oppure Vieni qua Intanto devo disattere la music Tipo rompo qua E fattivamo tipo Un passaggio Tipo sotterraneo Porta tipo A una mini stanza Tipo Che ne so 5x5 Mettiamo Librerie Agent Venti table Si Tipo si scende con l'acqua Si Perfetto Buono Allora però intanto Mi devi dare spostare Tutto dentro Vieni Si Io Faccio Tu incominci a spostare Io devo organizzare Le cose Sto laggando Ok dobbiamo dividere le ceste Qui come posso fare Quindi mettiamo Allora faccio un po' di cesti Intanto Si si fanno tante Come sapete ragazzi La La precisione È brutta in minecraft Tutto scorretto È una cosa più bella Ehm Avevo intenzione di fare Queste ceste Messe In un modo Un pochino streuso Però tipo Non Proprio Messe normali Come mettiamo sempre Del tipo Non lo so Oh mi è venuta forse un'idea Prima di andare di nuovo In mini aero Lo sai Ok mi è venuta un'idea Faccio 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 Allora i letti dove li metto Eh Ah c'è legno Hai legno Qui no Le ceste dove le metto Mmm Dammele a me La posiziono io Hai legno Ci sono altre due ceste fuori Sarà lì dentro Ma è poco comunque L'abbiamo usato tutto per la casa Ok dimmi se Se c'è così Buono Che palla ho fatto un bottone 49 di legna E 62 di betulla 49 normale E 62 di betulla Bene facciamo di betulla E 5 di abete Bene Ah abete anche 5 Però quale Quella Quella ho già lavorato Ah che palla 5 No non basta Ok Devo venire Dammi con l'ola Bravo di betulla Metti la ceste da qualche parte E comincio a spostare le cose Che magari tu non mi butti in legna così Perché si deve assumare tutto Che in minecraft non sanno fare più niente Ok scusa nocci Nol Sono bellissimi i cavalli Ieri quando ho fatto lo snapshot Mi sono divertito un sacco Cioè si sono fatti aiutare anche da Dottor Tark Sì quello dell'Amo Creators Ma dico io non sapevano farle da soli Sono programmatori Cioè Hai capito la mia idea? Le ceste lì sopra Sì Bella bella E con i cartelli sopra Lì che cosa c'è dentro Allora Sì Faccio dei cartelli Cartelli? Cartelli? Sì cartelli No Che cartelli? Ah ci mettiamo i frame Sì li mettiamo alla destra Che ne so Ok Allora Intanto facciamo che La prima di fronte è quella dei blocchi Quindi comincio a portare i blocchi Sì vai Ragno Dove? Lag Ok Abbiamo cercato di fare la casa più precisa possibile Tipo per la cosa delle finestre in te Eh già Allora Poi dovevo andare in miniera Perché non abbiamo quasi più niente Abbiamo consumato tutto per fare sta casa A voglia Abbiamo consumato un casino di pale Per spianare questa zona Un casino di ferro per fare pale e asce Madonna Oh Faccio un altro po' di craft Metto Oh Non allargare minecraft Eh Ok Eh Ci sono altre due di craft in tipo Vieni Ci sono due craft in tipo qui Ok Se mi indovini Che canzone stavo cantando Ti do un cioccolatino Allora quando lì Eh Eh anche io lo so cantare Grazie Lo ho già sentito ma lo so dove Sì la so come fa Però non mi ricordo Ti do un indizio Sì Eh aspetta Eh prima Prima di trovare un indizio Buono che non spoilere tutte cose Ce ne vuole Che indizio ti posso dare Che indizio ti posso dare Piccolo Un indizio piccolo Allora qui ci mettiamo il cibo In una cesta Nell'altro i materiali preziosi Te l'ho dato l'indizio Vedi eh Perché era un indizio Sì Com'è Un indizio piccolo Vai che ce la vuoi fare No non ce la farò mai Non ho idea Ahia Ragno vai via Oh Non ho la minima idea Sicuro Già Un indizio piccolo Piccolo Così No piccolo Junior Junior Ah la canzone di quando Goan Grande Goan faceva l'allenamento Però nelle cose Nel deserto Nel film però Ah beh sì Quale film aspetto Nel film di Trombol Ce ne sono parecchie Eh quando Goan era piccolo Però Che cantava c'era Slug Il gigante verde Ah sì sì Slug Sì l'ho visto Quando la Slug Gli dava fastidio Che Goan fischiava Ma perché sto facendo queste cose Devo fare altre ceste Io ho altre fornaci Dove le mettiamo le fornaci? Eh Avevo l'intenzione di metterle Sì bravo In mezzo Però ho tre Perché sono poche Due Qui ne facciamo così A tre a tre Sì ok E lì di nuovo Vabbè ma mi sono finiti le fornaci I letti dove li metto? Mmm I letti I letti Facciamo una camera centrale Dentro casa Ma che cavolo è Ho finito già tutto il legno Intanto ti vieni Allora la casa Perfetto L'ho predisposta L'ho predisposta io Quindi sono un genio Vediamo Posso farla così E così Oh Attenzione che mi frizza La facciamo poi in corridoio Vedemi se ti piace l'idea Vado 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 Prende altre cose nella ceste Facciamo una cesta Con le cose varie Facciamo una casa Dentro una casa Porco cano Finito il legno Io prendo tutto Adesso la cesta Cioè sto contando Con le slab Ok ho preso le due ceste Che c'erano fuori Dove le metto? Le ceste Due ceste Due ceste Aspetta qua Ma forse Ci vuole un altro ripiano Hai il legno Di betulla ancora? No Non ho nessun Cosa di legno No Che palle C'è un altro Due ceste Questo me lo dovevi dire Ah Dammi le due ceste Ovviamente E' la camera da letto Eh Dove Vogliamo dormire? Allora da qua c'è un passaggio In pratica porta poi Da questa zona Quindi si dorme qua Vuole dormire a destra e a sinistra Vuole uguale I due letti Allora La cestra e le merdate varie E' questo Qui c'è un altro letto Questa è materiale Questa è la cestra e le merdate varie Questa è un altro Crafting Ok Ehm Mi servono sticchetti Non abbiamo pelli di mucca tipo Sì 26 Perfetto E' nemmeno già fare i frame Che ci sta Spena messi qui Allora adesso qui la cestra e gli attrezzi Metto l'arco Quest'altro arco E' nemmeno dalle frecce A5 Le ho messe qui Comincia a fare i frame Poi la cestra e il cibo era Questo C'è cibo E poi tipo la cesta No metto tutto il cibo va Questo Ok Questo qua Questo qua Questo qua Vado a raccogliere un po' di legno Oh il cibo Ho messo il mio cibo qui dentro Brava brava Vuoi raccogliere Questo qua assolutamente fuori Ok sta all'alba Perfetto Prendo degli altri tutti i tipi No beh prendila solo un normale in questo momento Ok beh tu la no? Ehm no Oddio Il timer Si Ma quel timer mi sono spaventato quando è riguardato il video No mi sa che la camera però non va bene così No 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 E' troppo in mezzo ai piedi da questa parte E quindi Oh la faccio A L Pure questa Oh a lungo Oh e smetti di frizzare Mi è frizzato per un episodio mi devi frizzare proprio No questo si toglie Questo si toglie Questo si toglie Questo si toglie Sto facendo il boscaiolo qui Bastano fa un'altra cosa Eh 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 Lasciamo stare Mmm Ciao lo fai tu Ehm Sai come Il triangolo Il triangolo Il triangolo Aforeste è piena di ragni No il triangolo o no eh Come in gasenza per ora lo so c'è un enderman che si continua a trasportare lo sto odiando imparo da marlo di non ti attaccherà valori a mori enderman di merda attaccami se il coraggio vieni pezzo di merda stupi ma non eri tu quello che deve e che palle per forza ora devono correre motociclisti ecco a me quando corrono non avete una casa anche perchè costo mi sembra abbastanza ho preso 60 di legno ok ho fatto la camera da letto a triangolo non proprio però vabbè io non l'avevo considerato neanche io no fa schifo ok per me no 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 scherzo no perchè fa schifo no fa schifo ma bella ok oh smetti la enderman perchè vengo a letto sul pacco dove è quest'enderman no questo no questo no questo si questo si hai il vetro tipo c'è rimasto vetro quando abbiamo finito di fare la casa si poco ma si eccolo ma dai dentro casa no la canzone di merda cioè la canzone si suono tieni il vetro ne avevamo sette oh sta cavolo di caffettiere ok adesso tipo giusto faccio un'entrata che porta tipo da là a là una piccola stradina questo lo metto qua questo lo metto qua questo lo metto qua questo lo metto qua è proprio una camera faccio i pannelli perchè un bottone perchè l'ho buttato io perchè non l'avevo considerato il bottone ho visto dove l'ho hai perso uno di vetro qui sopra si abbiamo fatto i pannelli ma questo qua comunque conserviamo e metti il caso che si spavano tipo un enderman noi lo guardiamo dalla finestra si ok abbastanza figo vediamo se non mi basta oddio me l'ho identicato non hai preso tutto il legno che ti ho dato eh si io scavo qui la stanza in giù dalla cosa le incantesime ok comincio a scavare tanto mi sa che finiamo nel prossimo episodio anche se non abbiamo diamanti per farlo il tavolo dell'incantesimo non ne abbiamo presi non ne abbiamo proprio diamanti non so se lo sai no non lo sapevo e ci sono arrivato abbastanza male non abbiamo nemmeno un piccone di diamanti oh oh oddio mi sarei aperto la chat come la faccio la stanza adesso scavo qui si aggiusta c'è la ghiaia e ti pareva no quanta ghiaia c'è uffa c'è la cosa più diosa oddio 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 mega frizz no scherzo cioè si molto molto frizz veramente questo metto qua 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 e abbiamo finito di fare la stanza a letto perfetto vuoi venire da vedere? si però qui c'è un sacco di ghiaiaia che mi sta facendo innervosire molto abbastanza e continua a cadere ogni blocco che rompo eh si chiama ghiaia direi vabbè risalgo con la ghiaia andiamo yes bella sì un piccolo una piccola casa dentro una casa allora facciamo i frame ok se li potremo fare nel prossimo episodio perché facciamo i prossimi episodi quindi per questo episodio è tutto perché finisco sempre un episodio con il lag no adesso non ne sto con finchè non ti stabilizza minecraft ok anche bravo quindi per questo episodio è tutto ci becchiamo nel prossimo episodio eh vedi no lui lo sa quando io devo staccare no secondo me è minecraft ci vediamo nel prossimo episodio ciao 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 so so so